Buonasera a tutti, ben ritrovati qui a Cesena, seconda giornata di UEFA National League, domani sera Italia-Ungheria, sono stati venduti circa 15.000 tagliandi per la partita di domani e praticamente tutto esaurito, ci sono piccolissime disponibilità ancora in vendita. Iniziamo la conferenza di stampa di oggi, del prepartita, con il CT Roberto Mancini, seguirà Nicolo Barella. Abbiamo 15 minuti con la traduzione consecutiva, quindi vi prego una domanda ciascuno, due per iSport e ovviamente dobbiamo stare nei 15 minuti. Quindi iniziamo subito con RaiSport, Donatella Scarnati, prego. Roberto, potete fare la formazione? Eh no, adesso no perché no, abbiamo finito ora, quindi sera domani forse, ma adesso dobbiamo ancora fare la lista dei 23. No, ci saranno un po' di cambi, ci saranno sicuro, sì. Rai, Rai? Non credo tutti, ma molti. Aspetta, fare la traduzione, poi vedo. Prego. Roberto, potete necmi adni a holnapi esti kezdò? Terminamente non vedo ne vedo ancora mai, ma non vedo. Ma non vedo, ma potete dire, che ho avuto a molti contesti, che ho avuto a molti contesti, che ho avuto a molti contesti, che ho avuto a precedenti. Passiamo a Radio Rai, Francesco Repice. No, per me è più una mezzara, però l'occorrenza può fare quello davanti alla difesa. Brian sicuramente è di quelli che sono qua insieme a Esposito, sono gli unici due che possono giocare da play. Roberto, come vedete a cui si può válto? Ugye Verrettit e Giorgino' casa küllte, esattamente Locatelli può giocare a vedele o solo a Sillen, o esattamente Brian Cristante. Hanno visto che Locatelli è anche la posizione, ma anche Brian può giocare a questo posto. Abbiamo le prossime due richieste. Simone Malaguti, Mediaset, in ultima fila, e poi c'è Paolo Tomaselli, del Corriere della Sera di lato. Buonasera, si è visto che la Germania in Italia è un po' diversa dal solito, meno possesso palla, meno forse in avanti aggressività. Perché costretti dalla Germania o nel rinnovamento c'è anche un'altra filosofia di poter vincere in altri modi e non con tutti gli uomini si può fare il gioco che avete fatto in questi tre anni andando a miglia all'ora? Grazie. No, si può vincere in qualsiasi modo. Non credo ci sia una ricetta particolare. Con tutti i sistemi si può vincere, non è questo il problema. L'altra sera, nei primi 20 minuti, forse non siamo riusciti ad andare a prenderli bene perché gli altri non erano male come giocatori, mi sembra. Però poi, dopo i primi 20 minuti, la partita è stata totalmente in equilibrio e quando noi andavamo a pressare, loro erano difficoltà, perché lo facevamo molto meglio. La prima volta che giocavano insieme, è chiaro che un po' di difficoltà ci sono. Nel possesso palla, non avendo Giorginio, non avendo Marco, è chiaro che abbiamo un po' più di difficoltà, quindi abbiamo bisogno di tempo per fare questo. Mancini, edzio. Kevesebb volt a labda birtoklása, ahogy ezt láthattuk a németek elleni meccsen. Ez minek volt adóta, vagy minek volt betudható? Hát biztos vagyok abba, hogy ez annak tudható be, hogy ugye Giorginio és Veretti is hiányzott, aki köztudottan két olyan játékos, aki a középpáján meg tudja tartani a labdát, tehát labda birtoklásra játszik. Viszont úgy vélem, hogy a kezdeti 20 perc után, ami nem volt az igazi, egészen összeállt a csapat, és a 20 perctől kezdve utána jó futballprodukáltunk. Paolo Domazelli, Lidilado. Aztán jihányzott górnyzott ésszeenek a középpáján meg a középen táményörében, a középen úgyhányzott meg a középen dolgábbi, akár másokál a középen? Cisztel az még valómat, és a szolgálat a középen egy aztán áldásos, derése az áldása szóférben. Ó,gyhányzott a középen a középen a középen, a középen a középen egy άλλában valóságként a középen, ami azt gondolgáltoztan egy-bízott, hogy bújányzott a középen, e valutiamo domattina, oggi, non abbiamo fatto fare nulla, quindi domattina valuteremo. Se lui si sente di giocare e vuole giocare, gioca. Sì, sono rimasti qua anche gli altri, anche Leo, anche Gallo, sono rimasti diversi. E quali io ho detto di andare a riposarsi. Mester, io Donnarumma-rò cerchiammi domande, un po' più semplice, un po' più semplice. E' un' che la c'è da Donnarumma il c'è, e' un' che il m'è un problema, un po' più semplice. Mà' più semplice, un po' più semplice, è un po' più semplice. Il è ancora più semplice, che Donnarumma è una termine di più semplice, e molto molto meglio, ma ci sono i potpiai. Ora, non potpia che ci sia, o che ho potpia a passare, o che ho potpia, magari che si potpia la passare, e l'ultima sapere, ma poi ciò che potpia, ma anche un po' più semplice, ma non ho potpia, Grazie a tutti. Perché nonostante la sua altezza è comunque veloce, potente, tecnico, forse nonostante sia alto può migliorare nello stacco, però è un giocatore che può diventare veramente un attaccante completo. E questo, cioè non dimentichiamo che per lui questo è il primo anno che gioca da titolare in Serie A, quindi è chiaro che insomma magari ci vorrà un po' più tempo, però io credo che possa diventare veramente un grande attaccante. Scamacca-urò scegliamo, come io vedo, inizia la attacchiamo la mozione, come i suoi, sono i suoi, come 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 i suoi. qualità si atteggiare, hanno chiamato che sia così grande e forte, ma non preoccupare che inoltre questa è l'ultima settimana in Serie A, quando la partita si atteggiare in paia, quindi non è necessario. Andrea Santoni, poi abbiamo due domande dai colleghi ungheresi. Buonasera, vorrei chiedere, ci dici per provare una parola di equilibrio a porto di di Mionto, nel senso, questo è il momento di fare, ma nemmeno tu adesso hai mandato via dei lavoratori, avresti avuto mandati via degli altri, che stai provando? Non è che io li ho mandati via volentieri, li ho mandati via perché erano molto stanchi, li avrei tenuti se fossero stati via. No, no, ma dove non ho precisato, non si è andata, non si è cacciato. No, no, non era questo. No, te lo chiedi, siccome questo è assolutamente il momento della, invece di fare nel senso dei giovani, abbiamo visto sei deputanti, e poi c'è l'esplosione di questo ragazzo, no? Ecco, mi dici dal tuo punto di vista qual è la lettura che dobbiamo dare un torno a questo giovane assolutamente, fino a ieri misterioso. No, intanto è un ragazzo di 18 anni, quindi non va neanche data tanta pressione perché deve avere la possibilità di crescere tranquillamente e migliorare. per l'età che ha, sa giocare a calcio come pochi giocatori e oltre a questa qualità è molto veloce, molto veloce, è rapidissimo, quindi è una qualità che nei nostri attaccanti mancava, quindi insomma se lui cresce con calma, senza che gli mettiamo addosso dopo mezz'ora di presenza in Nazionale A, non bisogna neanche pressarlo così tanto, io credo che bisogna veramente, ha delle qualità importanti, è un ragazzo intelligente, questo credo che sia una qualità migliore, quindi può crescere, può diventare penso un giocatore importante. Abbiamo ancora quattro minuti, quindi... No, penso che la Lucia, il ruolo più adatta la Lucia, è la seconda punta. Però è un giocatore che può fare l'esterno tranquillamente. Il tempo è quello comunque alla fine, due domande da Junge. Scusami, la Lucia. E' un giocatore, il ruolo più adatta, è un giocatore, è un giocatore, è un giocatore che non si può fare l'esterno, quindi tutto è un giocatore, ma un giocatore Abbiamo due domande dai giornalisti ungheresi, uno è lui con il giusto ungherese, se sbaglio. Grazie a tutti. La Sampdoria è stata il mio compagno in squadra, in un momento che la Sampdoria non era i tempi belli, però abbia fatto le cose buone, è un ragazzo perbene, è un bravissimo alleatore, ha visto il lavoro che sta facendo con la nazionale ungherese da diversi anni, è migliorata moltissimo. Mi sembra che dopo il gruppo all'europeo e l'inizio di questa National League, mi sembra che il lavoro sia straordinario. Fai la seconda risposta così facciamo un'unica. La seconda domanda devi tradurre, aveva detto due domande. L'Ungheria è quello che ho detto, è una squadra che ha battuto anche con merito l'Inghilterra, due pareggi con Francia e Germania all'europeo. Quindi, insomma, è una squadra difficile da affrontare, perché comunque è molto fisica e la qualità molto importante in attacco. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.